salve a tutti e bentornati sul canale delle perle di vale oggi vi faccio vedere come realizzare questo progetto ed è un porta gomitoli in pratica si mette il gomitolo dentro e da questi fori qua si fa uscire il filo ed è lo stesso che trovate nel kit vedete del per fare appunto questo porta gomitolo lo trovate su modo merceria punto it e vi verrà fornito di 22 basi in legno a cui uno colore cioè con il disegno e una rocca di fettuccina fashion bag come detto l'uncinetto è il tre e mezzo e sei ma in realtà ho fatto il tre e mezzo per passare nel buco mentre a lavorare l'ho lavorato col numero otto perché mi piace di più è venuto molto più lento che invece l'altro veniva troppo stretto e non mi piaceva pensavo di metterci la fodera perché se gli mettevo la rete perché pensavo che fosse molle invece è bello sostenuto non si piega vedete e questo è il punto maglia è un bel punto va bene anche per fare le borse però come l'abbiamo lavorato qui si lavora in circolo però c'è modo anche di farlo a pannelli che poi vi farò vedere se volete io spero che nel video si vede bene come lavora il punto se non dovesse vedere me lo fate sapere nei commenti e io vi farò un piccolo video con un colore più chiaro bene detto questo se non avete attivato la campanellina attivatela almeno così sapete quando metterò altri video iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto e via al video tutorial iniziamo il progetto intanto vi faccio vedere quello che contiene il kit porta gomitolo e qui c'è scritto tutto abbiamo due basi in legno da 16 cm di cui uno è disegnato e uno è liscio questa sarà la base e questo il coperchio poi abbiamo bisogno della fettuccina a rocche di fettuccia fashion bag un cotone e abbiamo bisogno dell'uncinetto 3 e mezzo dice qui 3 e mezzo non so se si vede e il 6 però io ho fatto una prova e con il 6 mi viene molto stretto quindi userò un 8 due numeri in più però questo serve comunque per inserire la fettuccina nel nostro nei nostri fori è un po ostico perché vi dico ci vuole molta pazienza perché essendo un un uncinetto molto piccolo quando andiamo a tirare su molto spesso mi scappa non riesco a trattenerla ma poi si fa benissimo con molta calma e pazienza io mi atterrò a queste spiegazioni qua e farò questo punto che è il punto maglia se voi volete potete farlo altrimenti potete fare qualsiasi altro punto ed è un progetto che velocissimo perché sono solo appena 9 giri e con una fettuccina così grossa si fa prestissimo comunque iniziamo il lavoro andando a prendere la nostra base e iniziando con le catenelle quindi io prendo io tengo in questo modo perché mi faccio più forza a prendere su vedete il filato e faccio la prima catenella questo momento sotto la prima poi questo per bloccare e ne faccio un'altra poi tengo la codina per nasconderla andiamo a fare le altre catenelle quindi due vedete quello che vi dico esce si fa fatica ma piano piano e farò così fino alla ne faccio 9 e poi vi faccio vedere ok io ho fatto 9 catenelle allora tiro su e nella decine il decimo foro dobbiamo fare due quindi sarà ancora un po più difficile ma piano piano ce la facciamo allora uno e ne facciamo un'altra e andiamo a tirare su piano cercando di riuscire a portare fuori il filo sotto pazienza vedeteci se la si fa poi si tira su e si fa l'altro quindi qui ne abbiamo fatti due poi tiro su uno uno e andrò e così adesso andiamo avanti con uno in ogni foro fino al diciannovesimo foro quindi piano piano aiutatevi con le mani se non riuscite vedete e vado a fare così fino al diciannovesimo quindi dobbiamo contare questo è il decimo 11 12 e così via e faremo così al diciannovesimo altre due catenelle e al ventinovesimo altre due e al tredottesimo altre due quindi dovremo fare contare i giri mi raccomando comunque è scritto tutto nel foglio io adesso farò tutto il giro con gli aumenti dove vi ho detto e poi ci vediamo al trentottesimo quindi facciamo uno e un altro io mi aiuto spingendo con il dito per far venire su una maglia e te e questa è l'ultima che qui la facciamo normale vedete e andiamo a chiudere nella prima maglia che abbiamo lavorato vedete e abbiamo fatto il perimetro mi sono dimenticato di dire comunque potete fare anche dopo vi conviene sempre prendere la circonferenza del nostro del nostro cerchio perché se vediamo che quando abbiamo fatto la base rimane un po' molliccia possiamo mettere una rete quindi dobbiamo prendere per sicurezza il perimetro del nostro cerchio io l'ho già misurato ed è 50 centimetri poi magari invece sta bene anche senza però intanto per sicurezza ce lo prendiamo ora abbandono il numero 3 e mezzo e prendo il mio che è il lotto io faccio un giro di maglia bassa in costa retro vedete così in costa retro è questa qua di dietro io spero che si vede bene questo è nero purtroppo il nero è un po' faticoso da vedere infatti la prossima volta per fare un video prenderò comunque sempre chiaro quindi costa retro che è quella fuori e vado a farmi il mio giro di maglie basse tenete un po' lento cioè molto morbido l'uncinetto in modo da passare bene perché poi andremo a fare il nostro punto maglia ok io adesso faccio tutto il giro e ci vediamo dopo bene io ho fatto un giro di maglia bassa in costa retro per dare questa forma che vedete nel foglio c'è scritto non c'è scritto qui c'è scritto con un 106 lavorare un giro a punto basso ma in realtà dovete farlo in costa retro ora per fare per chiudere il punto io faccio in questa maniera metto l'uncinetto dentro a questa a questa maglia qua vedete qui per non far fare lo scalino faccio così prendo il la maglia che ho lasciato e lo porto sopra così e vado a chiudere in modo che viene tutto uguale faccio una maglia una catenella e adesso il lavoro vero e proprio si svolge in questo modo noi dobbiamo andare a prendere dove non nella nella catenella sopra ma tra la vi vedete questa queste due maglie qui non so se si vede bene queste due maglie qua questa e questa noi dovremo andare qui in mezzo quindi facciamo così andiamo vedete in mezzo alla v che è qui fra le due maglie questo e andiamo a prendere il filo vedete fra le due maglie e facciamo una maglia bassa facciamo così anche nell'altra vedete e in realtà è un lavoro molto semplice in pratica è un punto basso preso tra non in questo buco qui non nella catenella qua ma in mezzo in pratica dovrebbe viene in mezzo a queste due catenelle noi andremo a prendere il punto qua sotto vedete qui adesso ve lo faccio vedere dall'altra parte lo faccio vedere col piccolo così si riesce a impiare meglio vedete qui fra le due le due catenelle in mezzo e vedete c'è la v c'è una maglia qui e una maglia qui una maglia vedete guardate qui in mezzo ok e andrò a fare così per per circa nove giri poi se volete farlo più alto andate avanti più quindi vado in mezzo e faccio il punto alto vado in mezzo a questa v in realtà il punto si vede quando abbiamo fatto tutto il giro quindi io faccio tutto il giro facendo sempre una maglia bassa prendendo fra le due maglie ok e poi vi faccio vedere il risultato a fine giro vedete già il nostro il nostro portogomito lo sta prendendo forma vedete questo è il punto e ne faccio vedere ancora si continua in cerchio e andiamo a prendere fra le vedete se si vede bene qui che ho preso nella v quindi in questo punto qua sarà qui qui in mezzo e andremo avanti così fino al nono giro nove o dieci giri quanto volete voi vedete vedete e come ho detto facciamo nove giri poi andremo a fare il coperchio nella stessa maniera solo che invece di fare 9 giri ne faremo solo 5 4 5 secondo di quanto vogliamo largo il nostro coperchio è la stessa la stessa maniera in cui abbiamo fatto il sotto dobbiamo fare anche il coperchio ma invece di 9 giri ne facciamo 4 5 a vostra scelta e ci vediamo a lavoro finito ok il nostro portogomito è finito vedete è bellissimo non credevo ma è veramente bello ho fatto il punto maglia vi ho fatto vedere come si fa nel coperchio poi ho rifinito con il punto gambero poi nel coperchio l'ho fatto ogni 5 per allargare quindi ho fatto la base e quando metto su se vi ricordate all'inizio che tiriamo sul filo nella base ogni cinque buchi cioè al quinto buco ho fatto un aumento così per tutto il giro fino alla fine e così mi è venuto un pochettino più largo in modo che quando andrò a metterlo a chiuderlo si chiude perfettamente vedete quindi dopo qui andrà il gomitolo e il filo verrà fatto passare da questo buco qua io ho fatto qui cinque giri qui di altezza io ho deciso di fare cinque giri potevo farne sei potevo farne anche meno però ho fatto cinque giri e ho fatto nove giri per il corpo del portogomitolo e mi è uscito questo bellissimo è un bel progetto che in pochissimo tempo si fa perché la fettucina è molto grossa vedete e niente io spero di essere stata abbastanza chiara e vi saluto ciao al prossimo video